Musica Risorse e costi della politica che noi siamo riusciti a ridurre che mettiamo a disposizione attraverso le amministrazioni comunali delle cittadine e dei cittadini della Toscana circa un milione di euro per un progetto che chiamiamo la via del futuro via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile inclusiva così mettendo a disposizione risorse per arredo scolastico per studenti con disabilità è aperta aperta come le pagine di un libro e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura La via del futuro, un milione e cinquantamila euro a disposizione dei comuni toscani grazie all'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale c'è tempo adesso fino al prossimo 17 aprile per partecipare al bando aperto alle amministrazioni comunali La nostra attenzione continua a essere viva per le amministrazioni comunali ciascuna di esse potrà partecipare per un progetto fino a un massimo di 15 mila euro di contributo per quel progetto aiuti concreti grazie ai risparmi della politica e una bella pagina che si rinnova anche quest'anno grazie appunto alla legge regionale numero uno per realizzare le finalità statutarie del Consiglio regionale Nello specifico 550 mila euro saranno destinati alla mobilità sostenibile 200 mila alla promozione della lettura e 300 mila all'inclusione scolastica il nuovo bando è stato presentato dai membri dell'ufficio di presidenza un bando importante che dimostra quanto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia aperto elementi di innovazione parla al futuro, parla ai giovani, parla all'inclusività parla a una Toscana verde a una Toscana che vuole essere innovativa lì sta la tematica del rispetto dell'ambiente con l'innovazione per quanto riguarda i veicoli elettrici le opportunità per i comuni per quanto riguarda anche le scuole l'inclusività la possibilità di fare degli arredi ovviamente per i ragazzi disabili ma non solo incentivi anche alla lettura quindi una risposta culturale una risposta di inclusività una risposta di opportunità una risposta di futuro quindi un Consiglio regionale che dimostra che mette da parte diciamo le bandiere dei singoli partiti che in maniera unanime riesce a dare delle risposte di innovazione a sostegno di interventi che fanno della Toscana una regione sempre più moderna innovativa e sempre più una regione d'Europa da un lato diciamo un bilancio che ci consente in perfetta salute di poter erogare risorse comuni dall'altro un grande patto con le amministrazioni locali per sviluppare una società ancora più improntata appunto ai temi della sostenibilità come ci insegna l'Europa ma come ci insegna anche il nostro Papa nella Laudato Si dove declina il termine di sostenibilità esattamente con questo filo rosso che tiene insieme gli aspetti ambientali con quelli sociali e con quelli economici particolarmente soddisfatta la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale per l'attenzione data al tema della lettura gli Stati Generali della Cultura che il Consiglio insieme alla Giunta sta portando avanti hanno individuato in una proposta di legge a mia firma ma poi trasversalmente accolta da tutti i colleghi della Commissione Cultura una proposta di legge al Parlamento sulla lettura nelle scuole una piccola rivoluzione che ci consente se il Parlamento vorrà approvarla di introdurre ogni giorno nel diario scolastico nell'orario scolastico uno spazio di libertà per la lettura libera di ragazzi ragazze e insegnanti è una cosa piccola che però vorrebbe trasmettere il senso di una buona abitudine che i ragazzi possano cominciare ad avere di nuovo nasce da una buona notizia durante dopo il Covid il pubblico dei lettori giovani è aumentato e il numero di libri letti annualmente è aumentato nella fascia di età più giovane via libera definitivo alle figure del sottosegretario alla Presidenza e ai due nuovi membri dell'ufficio di Presidenza termina così il lungo iter di modifica statutaria con le leggi applicative voto a maggioranza in Consiglio regionale per le norme che definiscono le strutture di supporto e i costi relativi all'introduzione delle nuove figure ad illustrare in aula il provvedimento il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario dotandola di uno staff operativo di segreteria fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica infatti si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della Giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali la stessa cosa vale per i segretari questori che vengono quindi inseriti all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza aumento di costi per la politica perché gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale vedranno una corrispondente riduzione delle loro indennità per fare spazio ai segretari questori Italia Viva ribadisce la contrarietà all'introduzione delle due nuove figure e non partecipa al voto continuiamo nella nostra coerenza siamo ormai arrivati a metà del mandato riteniamo eccessivo un appesentimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica di difficoltà del personale dipendente c'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali c'è una vertenza molto delicata tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché a nostro avviso non è opportuna si è visto che in due anni e mezzo di mandato come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della giunta in questa prima metà del mandato si possa proseguire in quella direzione siamo stati coerenti non abbiamo partecipato al voto perché riteniamo che questo non fosse opportuno voto a favore nel centro-destra da parte della Lega convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi due anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del presidente l'assenza di tutta la giunta regionale nei rapporti anche con il consiglio nelle varie commissioni nella presentazione di proposte di legge quando parlavamo di bilancio di ambiente di lavoro di sanità e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario auspicando che questa nomina avvenga ripetendo che è a costo zero quindi a invarianza di costi per la politica venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza che comunque anche delle corsie preferenziali dei rapporti preferenziali con la giunta ma soprattutto l'opposizione nel capire purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito quali siano le strategie del presidente della giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve non c'è contrarietà al provvedimento dice Fratelli d'Italia ma c'è un problema politico con la maggioranza per noi è utile una figura ovviamente a costo zero tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al consiglio regionale poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il partito democratico perché hanno aspettato due anni e mezzo a portare la legge in votazione all'aula lo hanno portata dicendo al termine di un congresso di un'assemblea regionale del partito democratico cinque mesi fa quando il presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del partito democratico in giunta quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del partito democratico in giunta ci sembra un po' una forzatura e alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi poco più di dieci giorni fa ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario ad oggi non ci serve quindi non capiamo perché il partito democratico abbia voluto per forza votare questa roba in aula se non serve a loro non abbiamo stato contro per questo nelle parole di Irene Galletti anche i dubbi da parte il movimento 5 stelle la figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini ha un senso e quindi non siamo contrari in maniera ideologica quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo e soprattutto in una fase dove nel consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea Arpa quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative spendere mezzo milione di euro per dare diciamo un appannaggio un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche ecco riteniamo che sia una cosa scorretta riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui si dovrebbe ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione delle nostre attività il capogruppo del PD spiega la razio del provvedimento e respinge le accuse soprattutto quelle relative ai costi aumentati è bene dire che per quanto riguarda le indennità non c'è nessun aumento perché il sottosegretario sarà un consigliere regionale ma anche per quanto riguarda l'aumento dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio non ci saranno aumenti perché come si suol dire il tutto è fatto a iso risorse per quanto riguarda invece il personale di supporto noi abbiamo inteso presentare un emendamento che è stato approvato per analogia tra il trattamento di un assessore quello del sottosegretario per quanto riguarda il personale di supporto un assessore ha cinque persone a supporto tre interne quindi che già riscuotono lo stipendio due esterne il sottosegretario ne avrà invece una in meno attraverso il nostro emendamento avrà tre persone interne e una esterna e più manterrà il supporto che ha nell'ambito del consiglio regionale quindi anche sparare cifre come ho sentito anche in aula di centinaia di migliaia di euro di costi di personale di supporto intanto dico che sono comunque persone che avranno un lavoro ma si tratta semplicemente di un'unica persona esterna che si affiancherà a quelle che già ci sono per quanto riguarda il supporto al sottosegretario dopo la relazione di metà mandato del presidente della regione prima meta la definita Gianni e i propositi per la seconda parte di legislatura su tutti i 6.000 progetti PNRR e l'impegno sulla sanità questi giudizi dati dai vari gruppi consigliari pareri ovviamente diversificati tra maggioranza e opposizione i lunghi mesi di pandemia hanno un po' focalizzato l'attenzione tutta sulla gestione dell'aspetto sanitario che peraltro è stata riconosciuta a livello nazionale come una delle migliori ma questo dicevo ha focalizzato l'attenzione facendo anche perdere di vista invece le tante cose fatte su tutti gli altri ambiti nei quali la giunta regionale è impegnata quindi sicuramente un giudizio positivo e anche un punto importante per impostare la seconda metà mandato con un nuovo impulso un nuovo slancio sulle partite strategiche che ancora abbiamo di fronte anche qui richiamo il tema energetico per dirne una dove la nave ormai approdata in porto di Piombino ci dice che grazie al contributo della Toscana il nostro paese si affrancherà dalla dipendenza russa per l'approvvigionamento energetico ma poi segue tutta l'altra partita quindi lo sviluppo delle rinnovabili lo sviluppo della geotermia quindi per rendere diciamo la Toscana assolutamente sostenibile e carbon neutral al 2030 2050 chiaramente le azioni sono molteplici ma credo che abbiamo davvero intrapreso la strada giusta il nostro è un giudizio positivo abbiamo sostenuto il presidente Gianni lo continuiamo a sostenere ovviamente siamo stati in alcuni momenti critici ma in altri momenti molto lungimiranti e credo che insomma arrivare a metà mandato con una maggioranza compatta sia un elemento di forza per il presidente sono stati dei passaggi non banali oggi tutti si mettono sulla banchina di Piombino a guardare il rigassificatore vorrei ricordare che in quel momento quando l'abbiamo discusso in consiglio regionale il mio è l'unico voto a sostegno di quell'iniziativa altre furono le mozioni che furono approvate altra quel livello di discussione io sono contento che oggi anche altri soggetti in primis ovviamente il presidente che devo dire la verità ha sempre creduto nell'intervento e ha sempre avuto il sostegno l'Italia Viva il mio personale il consiglio regionale ha fatto bene andare avanti come commissario nello stesso tempo le nostre battaglie di rivendicazione se pensiamo anche al diniego rispetto alla battaglia sull'aumento delle tasse rispetto alla battaglia per non fare il nono assessore ma nel frattempo sostegni a tante questioni all'impiantistica sportiva alla voglia alla volontà di discutere sul tema dei rifiuti sulle questioni che riguardavano il piano regionale di sviluppo molte questioni che riguardavano le imprese il sostegno le infrastrutture penso alla nuova pista dell'aeroporto quindi noi siamo stati determinanti in questa prima metà del mandato sicuramente la spinta nostra riformista è determinante per un presidente che ha bisogno di avere una forza politica che lo sostiene che non fa compromessi ma come nel nostro caso il consiglio regionale diciamo è coerente con quegli impegni che avevamo preso in campagna elettorale quindi piena fiducia a Gianni per un secondo metà di mandato sul quale ovviamente faremo sempre sentire la nostra voce ma anche il nostro sostegno il nostro giudizio lo faremo a breve anche noi perché abbiamo deciso di fare anche noi un momento di confronto con i cittadini sul metà mandato lui l'ha chiamata la prima metà giocando sul fatto prima metà prima metà e noi chiameremo ultima metà ultima metà perché questa prima metà mandato di Eugenio Gianni sancisce quello che ormai è sotto gli occhi di tutti cioè il fatto che la sinistra non può più governare questa regione la sinistra di Gianni è totalmente incapace di governare non è in grado di dare una risposta a una ai cittadini non è in grado di portare avanti un progetto uno di investimento in questa regione sfido il presidente Gianni non ho partecipato alla sua chermessa al teatro della compagnia ma vorrei capire quali grandi opere ha presentato sfido il presidente Gianni a raccontarci di un'opera che la regione toscana ha portato avanti in questi due anni e mezzo non c'è un'infrastruttura completata non c'è una grande infrastruttura avviata tutte le grandi promesse i ponti la Darsene Europa l'aeroporto di Firenze non c'è un'opera che è partita si parla soltanto di risanare buchi di coprire disastri provenienti dal governo del passato non ci sono investimenti non c'è cambio di marcia quindi non capisco non vedo come questa sinistra possa ancora tra due anni e mezzo presentarsi e chiedere di essere confermata la guida della regione un giudizio alquanto deludente fatto esclusivamente di slogan si promettono 100.000 posti di lavoro e soprattutto si dice che andremo successivamente a visitare tutti gli ospedali per verificare le carenze soprattutto nei pronti soccorso ecco noi questa visita come gruppo Lega l'abbiamo già fatta abbiamo già perlustrato e analizzato tantissimi pronti soccorsi della Toscana direi quasi tutti e potremmo noi fare una relazione al presidente Gianni di quanto siano in difficoltà in medicina d'urgenza i nostri medici i nostri infermieri nelle nostre ossa all'interno di pronto soccorso della Toscana basta slogan ormai due anni e mezzo di giunta sono già passati ci aspettiamo delle risposte non per noi ma per tutti i cittadini toscani addirittura il presidente Gianni si spinge oltre va al 2030 dando già per scontato la sua rielezione ecco di questo noi non siamo per niente convinti come centro-destra unita siamo pronti nel 2025 a governare la Toscana grazie a tutti a presto a presto